Un latino americano in Italia e un italiano in America Latina, data la sua interazione totale tra la dimensione latino americana che ha sempre vissuto in modo totale e il suo essere pienamente un dirigente politico del nostro paese. Io ho ricordato nel libro il modo assai simpatico e curioso come ho scoperto Donato Di Santo. Andai a Lecco per fare una manifestazione dove Donato era il segretario del Partito Comunista di quella città e prima di andare alla manifestazione che avevamo convocato passai nell'ufficio e a Lecco, che come sapete sta a pochi chilometri dalla Svizzera, mi ritrovai in un ufficio in cui c'era un'iconografia tutta latino americana. Bandiere sandiniste, manifesti di Che Guevara, varie cose. Che mi colpì, infatti gli dissi scusa ma il senso a pochi chilometri alla Svizzera di questa cosa qual è? E lui mi rivelò quello che poi è scritto bene in questo libro, cioè la sua grandissima passione per l'America Latina e la sua, non solo passione, ma la sua determinazione a dedicarsi all'America Latina, una cosa che qualche mese dopo fu possibile quando chiamammo Donato Di Santo a venire al Dipartimento Internazionale dell'allora Partito Comunista Italiano a, diciamo, dirigere il settore dell'America Latina. E' stata una scelta felice perché Donato ha costruito un sistema di relazioni con la sinistra democratica latinoamericana di straordinarie ampezze e di straordinaria profondità. Perché il momento era un momento molto particolare. Come sappiamo, per lungo periodo l'America Latina è stata prigioniera, per usare una formula delle due G, golpe o guerriglia. All'inizio degli anni 90 maturò in una serie di forze politiche latinoamericane, di sinistra, la convinzione che bisognava uscire da quella tenaglia. Bisognava uscire da quella tenaglia mettendo in essere un percorso di costruzione di una sinistra democratica, capace di misurarsi con i problemi dei propri paesi e di affermare una presenza culturale e politica forte. E quei partiti assunsero come riferimento il PDS, che avevamo appena fondato. Quindi in quegli anni il lavoro di Donato fu particolarmente prezioso perché stabilimmo un rapporto con queste forze, il partito di Lula, il partito Frente Amplio in Uruguay, l'Unione Civica Radicale di Alfonsini in Argentina, Paraguay por Paratodo, credo se ricordo male, di Filizzola e tanti altri, che erano, diciamo, l'espressione appunto di un nuovo fermento politico, tra l'altro che nel giro di pochi anni portò di molti di questi partiti ad assumere posizioni di governo rilevante. Tabare Vasquez divenne presidente dell'Uruguay, Lula presidente del Brasile e via di questo passo. E Alfonsini presidente dell'Argentina. Quindi c'era tutto un fiorire di una sinistra democratica che ebbe un ruolo particolarmente importante in quegli anni per far uscire l'America Latina dalla lunga notte dei colpi di Stato, delle dittature militari. E c'era in particolare un luogo di incontro di queste forze che era il Foro di San Paolo, che era appunto, diciamo, che aveva come ispiratore un uomo che è morto da poco tempo e che è stato veramente un uomo straordinario, che era Marco Aurelio Garcia, che era la vera intelligenza politica sia del Foro sia di tutte le politiche che poi fece Lula in Brasile. Un gesuita sprettato straordinario che era appunto il regista di questa operazione. Con lui noi costruimmo un rapporto intensissimo di cooperazione, di relazioni che culminò in un... che ebbe un momento alto in un viaggio che faceva una lunga missione, io facevo in America Latina nel 1991. Io Donato e Anna Maria Serafini, che poi divenne mia moglie. E quello che mi colpì in quel viaggio fu... e lì ebbi la conferma. L'autorevolezza che Donato aveva nei confronti di tutta la dirigenza politica latinoamericana. Noi visitammo cinque paesi, in quei cinque paesi incontrammo tutti i presidenti della Repubblica, tutti i leader politici, fino all'ultimo più piccolo gruppuscolo di cui nessuno aveva cognizione, se non Donato di Santo. Però appunto, una rete straordinaria di relazioni che dimostrava la fertilità di quel momento della sinistra latinoamericana e anche la grande importanza di una relazione con l'Italia e in particolare con il nostro partito in quel momento. E lì, io credo, si è potuta misurare in quegli anni, ma poi anche successivamente. E proprio le conferenze ne sono l'espressione, le dieci conferenze che sono qui richiamate, di quanto l'America Latina sia un soggetto strategico per l'Italia e soggetto strategico per l'Europa. E direi che l'intuizione delle conferenze, che iniziarono a Milano la prima volta per iniziativa del presidente Formigoni, se ricordo bene, e poi dalla seconda edizione diventarono edizione nazionale e di cui Donato è stato per molti anni il motore, sia come sottosegretario prima e poi come coordinatore della conferenza, sono stati un momento particolarmente fecondo di relazioni e se volete anche, come dire, un momento nel quale abbiamo affermato una competizione con un altro grande soggetto, che è la Spagna. Sappiamo tutti come la Spagna, per ragioni storiche, politiche, culturali, ha un rapporto con l'America Latina intensissimo e considera un po' l'America Latina come dire un pascolo esclusivo, un dominio esclusivo e guarda con diffidenza alle presenze di altri paesi. E io ricordo che chiedemmo un incontro ai socialisti spagnoli con Donato e andammo a un incontro a Madrid per proporgli una cooperazione sull'America Latina. Sulle prime la reazione fu molto fredda, anzi quasi come dire diciamo, vabbè, ma questi qui cosa vogliono? Ci siamo noi. Poi mano a mano che la riunione andava avanti e Donato parlava. Gli spagnoli si resero conto che avevano davanti uno che conosceva l'America Latina meglio di loro e che era un interlocutore e che quindi si poteva costruire insieme. E di fatti da lì partì una cooperazione con i socialisti spagnoli e il governo spagnolo che ci vide mettere in campo una serie di iniziative comuni e Donato, a testimonianza di quello che abbiamo appena detto, fu l'unico esponente europeo non iberico invitato alla cumbre ibero-latino-americana che periodicamente si svolge, a conferma del fatto che anche gli spagnoli avevano riconosciuto il valore e l'autorevolezza di Donato. Le conferenze che Donato ha guidato per così tanti anni sono stati uno strumento preziosissimo e che hanno confermato appunto quanto l'America Latina sia un partner fondamentale. Quando noi parliamo di rapporto transatlantico, tendenzialmente questa espressione la applichiamo sempre al rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti. E forse bisognerebbe cominciare a pensare che quando parliamo di rapporto transatlantico parliamo di un rapporto che parte dall'Alaska ma arriva fino alla Terra del Fuoco e che tra Puebla e la Terra del Fuoco c'è un continente latino-americano che è un interlocutore assolutamente essenziale e prezioso per noi. Io ricordo sempre, qualcuno me l'avrà già sentito dire, certamente Marina, in cui abbiamo fatto molti dibattiti su questi temi, quello che scrisse Inaudi. In occasione dell'esposizione internazionale, l'Expo internazionale di Torino del 1911, Inaudi scrisse un piccolo pamflet che presentava i vari paesi presenti all'esposizione. E affrontando il capitolo della presenza latino-americana a quell'esposizione scrisse non si capisce perché, erano i tempi della guerra italo-turca per la conquista della Libia, non si capisce perché abbiamo dovuto cercare un continente in Africa quando bastava guardare oltre Atlantico per scoprire che ce l'avevamo già. E naturalmente Inaudi si riferiva in primo luogo ai flussi demografici enormi di migranti che dal 1850 al 1860 e poi per periodi diversi con molta intensità avevano portato tantissimi italiani in America Latina, prima in Argentina, poi in Brasile e poi in tutto il continente. Quindi io credo che questo libro ci serve proprio a questo, cioè a dare consapevolezza del fatto che l'America Latina è un soggetto strategico con cui l'Italia sul piano bilaterale, l'Unione Europea sul piano multilaterale hanno l'interesse a costruire le relazioni più intense. D'altra parte i rapporti economici sono strettissimi, il primo partner del Mercosul è l'Unione Europea, e anche per l'Italia vale questo. Pochi sanno che il primo partner economico dell'America Latina in Italia non è il Brasile, non è l'Agentina, ma è il Messico, per fare un esempio. Quindi abbiamo un patrimonio di relazioni storiche, di relazioni politiche e di rapporti economici, Enel è il principale provider di America energetico dell'America Latina, avendo acquisito Endesa. Quindi abbiamo una quantità di relazioni di ogni tipo con l'America Latina che ci sollecita quindi ad assumere il rapporto con l'America Latina come uno dei pilastri fondamentali della proiezione internazionale dell'Italia e della sua politica estera. E le conferenze sono testimonianza di questo, perché non c'è altro paese, se sì, eccetto appunto la cumbre ibero-latinoamericana, non c'è altro paese che coltivi i rapporti con quel continente, con questa intensità, con questa continuità, che naturalmente sappiamo tutti, ha anche non solo le molte radici nella storia, ma ha anche un passaggio politico-istituzionale importante, che è la fondazione dell'Ila, che vuole fanfani con grande determinazione, e che anche questo rappresenta un unicum. Non c'è un'altra istituzione internazionale riconosciuta come tale, multilaterale, che un paese abbia con l'America Latina come l'Ila per noi. Quindi abbiamo, diciamo, mille ragioni per guardare l'America Latina davvero come un partner fondamentale della nostra azione politica e direi che questo ha avuto e ha in donato di santo un motore prezioso, essenziale, e quindi dobbiamo, credo, essergli tutti davvero grati. Grazie. Grazie mille. Piero Fassino, credo che appunto il valore dell'autorevolezza della rete di relazioni che può essere messa in campo, che appunto Donato è stato capace di mettere in campo, abbia poi trovato nelle istituzioni un interlocutore intelligente, perché è chiaro che una persona non può fare la politica estera. Nello stesso tempo, America Latina ha attraversato e attraversa fasi diverse, per cui appunto a Marina Sereni mi chiederei anche di appunto quali sono le prospettive nella relazione con il continente sudamericano. Prego, grazie. Ho visto che avete pulito, ma noi stiamo parlando tutti con la mascherina, in realtà, ok? Va bene. Era una domanda, mi stavo ponendo una domanda su che cosa dovessi fare. Eh, ma intanto lasciatemi dire, mentre Piero ha potuto esprimere qualche elemento soggettivo e personale nella sua prefazione, la sua introduzione, io sono stata molto sull'istituzionale, però consentitemi oggi di essere un pochino più Marina Sereni rispetto a rispetto a Donato, perché la stanchezza fa brutti scherzi, ragazzi. Scusate. Perché quando alla Farnesina tutti dicono ah, Marina Sereni è molto interessata all'America Latina. Tutto merito di Donato di Santo. Cioè, se c'è una radice, diciamo, un motivo per il quale nella mia passione per la politica estera, per la politica internazionale, però questo continente mi è sembrato così vicino e così importante nella mia esperienza prima politica e poi parlamentare e poi di governo in questa ultima fase, intanto molto lo devo al modo con cui Donato ha lavorato con me. io sono arrivata al partito a IDS nel 2001 quando Piero Fassino da segretario nazionale mi chiamò e mi disse se potevo fare la responsabile esteri svenimento al telefono e e quando sono arrivata tutta la squadra degli esteri si interrogava su chi fosse questa Marina Sereni che veniva dalla periferia perché non ero un dirigente nazionale del partito, non mi conoscevano, non li conoscevo, ho trovato una squadra fantastica, ma in questa squadra fantastica ho trovato un una persona come Donato di Santo che noi per scherzare fino a Bergoglio funzionava, adesso con Bergoglio non funziona più, dicevamo ma se scende dall'aereo il Papa diciamo ma chi è quello mino vestito di bianco vicino a Donato di Santo in America Latina? Ecco eh in realtà ora diciamo Papa Francesco ci ha tolto questa buttata questa battuta ehm però certamente Donato è quello quel donato che ha descritto Fassino Fassino prima e eh nel fare responsabile dell'America per l'America Latina nel Dipartimento Internazionale del Partito lui è stato con tutti noi non solo con il segretario cosa che era diciamo piuttosto normale per gerarchicamente ma anche con me che arrivavo eh dalla periferia e sapevo molto meno di lui dell'America niente dell'America Latina è stato di una grande generosità perché quel stesso lavoro che lui ha fatto con Fassino da segretario lo ha fatto con me portandomi in America Latina e facendomi incontrare le classi dirigenti di quei paesi il la politica di quei paesi facendomi capire la complessità di quei paesi e quindi anche convincendomi del fatto che nella gerarchia delle priorità della politica estera italiana eh c'è un grande spazio per un lavoro sull'America Latina che fosse necessario coltivare una relazione ricca profonda eh politica non solo economica non solo di cooperazione economica ma politica con un continente complesso difficile eh come quello dell'America Latina ma con una grande possibilità una grande potenzialità per per noi il libro che Donato ci offre che ci ha eh dato ha come dire due parti una parte ci racconta un passato ma con una interpretazione e io penso che per la politica estera italiana sia molto importante riflettere su come sono andati i fatti e su come siamo arrivati qua perché se oggi noi siamo in Europa l'unico altro paese oltre alla Spagna che però ha una storia coloniale tutt'altra eh a a poter vantare di una così forte stretta relazione con i paesi dell'America Latina questo in gran parte lo dobbiamo a questa storia cioè questa storia noi non l'abbiamo vissuta magari anche inconsapevolmente a volte sono state fatte delle scelte che non necessariamente avevano tutta questa chiave di lettura ma a ripercorrerla a ritroso dalla prima conferenza milanese diciamo così che nasce per un'iniziativa lombarda fino alla istituzionalizzazione fino alla decima conferenza che abbiamo fatto ad ottobre beh questa storia ci dice che è stato seminato qualcosa e che questo qualcosa ha prodotto una idea di politica estera non è sempre facilissimo diciamo noi diciamo nel quando spieghiamo ai giovani ragazzi che incontriamo quali sono i pilastri della politica estera italiana diciamo l'europeismo la i rapporti transatlantici l'appartenenza alla Nato eccetera spesso spesso ci fermiamo la e questo cioè non è sempre possibile vedere chiaramente un percorso che ha prodotto una politica ecco le conferenze Italia America Latina sono un percorso che ha prodotto che ha prodotto politica ha prodotto una idea di politica estera nei confronti l'America Latina un'America Latina che oggi è diciamo non è mai semplice quel continente ma oggi è particolarmente complesso io sto pensando come molti di voi penso al al voto che ci sarà domenica in Cile ok ma non ci possiamo diciamo eh addentrare in questo però è un è un continente in cui c'è stata e c'è una grande polarizzazione è un continente eh che in gran in grande misura ha visto grandi paesi svilupparsi ma è un continente anche ancora attraversato da enormi tensioni da enormi elementi conflittuali eh con diciamo così appunto questa forte polarizzazione che eh che ha che ha nel corso del tempo anche prodotto delle conseguenze sulla dimensione regionale eh cioè la dimensione regionale dell'America Latina noi continuiamo a parlare di America Latina ma questa dimensione regionale le varie organizzazioni Selac eccetera eccetera che rappresentano l'America Latina in realtà sono state un po' tutte colpite e indebolite da una polarizzazione dalla crisi del Venezuela e così via però non abbiamo tempo io su quello non mi soffermo perché invece penso che oltre a questa storia che Donato ci racconta con dovizia dei particolari come è suo stile diciamo non ci sono anche degli elementi particolarmente evidenti dello stile di Donato nel libro quindi la sua meticolosità diciamo nel raccontare i passaggi i particolari però oltre a raccontarci una storia poi Donato ci dà nella parte finale del libro una serie di indicazioni ci suggerisce di continuare questa storia quindi non si ferma alla quello che abbiamo già fatto che è tanto e che lo dico qui c'è il dirigente della struttura Michele Pala che eh governa diciamo fa il direttore centrale per l'America Latina ci sono protagonisti del di tutte le fasi che abbiamo raccontato noi siamo stati straordinariamente soddisfatti della decima conferenza Italia-America Latina per la qualità della partecipazione per la quantità della partecipazione e anche per lo come dire le aspettative che noi abbiamo sentito in quella conferenza cioè non sono soltanto venuti qua no? Perché dopo tanti mesi di chiusura del durante il covid avevano voglia di farsi un viaggio in Italia sono venuti qui ministri eh vicepresidenti del consiglio eccetera eccetera a portarci un delle idee a confrontarsi a cercare dei partner noi abbiamo costruito una possibilità di partenariato attraverso la conferenza delle conferenze Italia-America Latina nell'ultima parte del libro io lì vorrei un po' interloquire diciamo anche per rispondere alla alla sollecitazione di Daniele Friggeri donatoci da alcuni spunti primo quello di europeizzare diciamo così la eh la nostra capacità di relazione con l'America Latina e quindi di lavorare per essere in qualche misura noi traino dentro la dimensione europea questa in questa conferenza per la verità ci abbiamo ci abbiamo provato perché avevamo previsto una colazione di lavoro e avevamo invitato eh sia l'alto rappresentante che alcuni ministri eh europei per una serie di contingenze per la verità non dovute alla cattiva organizzazione neanche alla cattiva volontà dei nostri interlocutori è riuscita a metà abbiamo fatto un pranzo se lo ricorda bene Antonella che è via Antonella Cavallari che vi ha partecipato e prendendo anche la parola eh abbiamo fatto aprire la conferenza da Stefano Sannino che è un po' anche lui un italiano un italiano eh eh un italiano europeo un europeo italiano diciamo così con molti legami con eh con 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 gli amici spagnoli e ehm noi abbiamo eh lanciato questa idea partecipato un sottosegretario competente eh del governo spagnolo ma lì abbiamo toccato con mano come questo tema sia cruciale perché è stata la parte forse più vivace di tutta la conferenza da parte dei nostri interlocutori cioè la discussione che noi abbiamo fatto in quella colazione di lavoro è stata una discussione molto vivace molto libera perché non avevamo costruito diciamo dei track precostituiti cioè abbiamo aperto la discussione liberamente e eh ed è stato evidente ed è evidente che noi e la Spagna la Spagna e noi facciamo così così non li diamo la Spagna e noi possiamo essere nell'ambito dell'Unione Europea e dobbiamo essere nell'ambito dell'Unione Europea i paesi che trascinano l'Unione Europea a cogliere di più il senso della relazione con l'America Latina eh per noi che quando andiamo a Bruxelles dobbiamo sempre far ricordare agli ai nostri partner europei che esiste il Mediterraneo e il Medio Oriente che non esiste solo l'Europa dell'Est diciamo la parte dell'Est è un triplo salto mortale no? Nel senso che noi abbiamo già il tema perenne di dire all'Europa guardate che dei due vicinati quello che in questo momento preme di più è il Sud no? È è il Medio è il Mediterraneo ed è l'Africa dobbiamo spiegare poi che non solo c'è quello ma c'è un grande un'area una regione del mondo che è l'America Latina che ci interpella ci interpella sulla natura e la dimensione dei rapporti transatlantici lo ha detto Piero ma io ricordo quante volte l'ha detto la vice la vice presidente eh colombiana nella discussione della conferenza su cui ha molto battuto dicendo guardate che voi dovete capire che le relazioni transatlantiche dell'Europa non possono essere solo con il Nord eh America ma devono comprendere anche noi anche perché in una diciamo competizione egemonica diciamo così con la Cina noi io sono stata diciamo prima del dello scoppio del covid ho visitato il Brasile eh il Cile eh il Messico soprattutto nel in Cile la presenza cinese è incredibile e non è presenza solo economica anche lì cioè vorrei che noi avessimo chiaro qual è la competizione che lì si esercita quindi conviene a tutti conviene anche ai nostri amici statunitensi che l'Europa non sia troppo distratta nel nel rapporto con l'America Latina e a noi conviene non delegare solo agli Stati Uniti il rapporto con l'America Latina per tante ragioni che credo siano abbastanza evidente quindi io penso che la conclusione degli accordi in discussione a livello europeo Mercosur Cile Messico non limitandola agli aspetti commerciali ma includendo gli aspetti politici sia un passaggio ineludibile ma che sia un passaggio anche ancora importante poter contribuire insieme alla Spagna inevitabilmente ad una riflessione europea che rifocalizzi l'importanza per l'Europa di una relazione con dell'America Latina che si fondi su temi politici la pandemia ci ha aiutato da questo punto di vista ahimè a rendere evidente che abbiamo delle sfide globali il clima la salute eccetera molte delle conversazioni che abbiamo fatto in questi mesi attraverso l'Ila attraverso gli strumenti diciamo di internet ci hanno dimostrato che c'è un terreno sterminato sul quale lavorare la seconda quindi per le conferenze penso che il tema di europeizzare le conferenze sia una delle questioni su cui pensando all'undicesima e quindi pensando al futuro governo dico a pala diciamo consegna a pala il tema eh eh credo che questo tema ci sia tutto la seconda la seconda pista che ci suggerisce ehm Donato è più complessa è quella di pensare a delle a uno spillover diciamo a una serie di filiazioni di di articolazioni della conferenza sul versante delle imprese mi pare veramente evidente che oltre al forum PMI che già noi facciamo ci sia lo spazio per una iniziativa anche autonoma però un dialogo diciamo così tra imprese che possa non essere necessariamente costruito dalle istituzioni anche dalle dalle imprese stesse cioè un foro delle imprese che possa accompagnare essere in parallelo alla conferenza Italia America Latina tema società civile mi sta molto a cuore però non mi posso soffermare molto perché volevo eh sottolineare due altre proposte che fa il libro di Donato che secondo me sono quelle su cui possiamo cominciare a lavorare una è l'evento binazionale una volta ci abbiamo provato Donato se ti ricordi perché si offrì mi pare di ricordare il Cile di ospitare una conferenza Italia America Latina però Italia Cile in quel caso nell'anno di mezzo cioè nell'anno in cui l'Italia non ospita la conferenza e quindi organizzare un evento in uno dei paesi della dell'America Latina nell'anno in cui l'Italia non ospita la conferenza partendo dal rapporto binazionale ma ovviamente avendo la possibilità stando già nella regione di poter allargare e invitare gli altri paesi a quel tipo di conferenza e io penso che questo sia una eh ipotesi relativamente praticabile abbastanza praticabile ovviamente da costruire però è una delle questioni su cui lavorerei diciamo lavorerei volentieri diciamo penso che ci possa essere uno spazio e l'altra idea che credo sia utilissima è quella del consiglio scientifico delle conferenze Italia America Latina cioè una un po' un costruire un luogo in cui eh questa riflessione non la facciamo soltanto tra istituzioni ma la facciamo anche avvalendoci di competenze di eh energie di 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 pensieri che si elaborano altrove dai centri studi alle università eh appunto al mondo delle imprese ai centri studi delle imprese e così via perché penso che ci sia materia ecco c'è materia per rendere questo tutto questo patrimonio un po' più visibile anche diciamo alla larga opinione pubblica stiamo parlando di una larga opinione pubblica ovviamente avvertita ma noi abbiamo la testimonianza concreta quando andiamo a vedere le relazioni economiche ma anche quando andiamo a vedere le relazioni tra le università ma anche quando andiamo a vedere i progetti di cooperazione che non sono finanziati dalla cooperazione italiana perché magari lì non abbiamo priorità ma da parrocchie associazioni eccetera vediamo che le relazioni people to people diciamo così tra l'Italia e l'America Latina sono tantissime e sono enormi non sono solo legate alla agli italo discendenti alla presenza no sono sono ormai sono cose nuove sono cose che sono nate strada facendo ci sono ci sono progetti di rapporto tra le università che sono fantastici la più o forse la parte più più commovente più coinvolgente della nostra conferenza di quest'anno è stata la parte sul programma Falcone Borsellino nella parte della società civile quando abbiamo visto quanto era cresciuto il rapporto tra le società civili sulla questione della lotta alla corruzione della lotta alla criminalità organizzata e così via chiudo eh poi però chiudo ma lancio la palla a Pierferdinando Casini penso che un altro spillover che dobbiamo fare è formalizzare e rendere stabile quest'anno ci ha pensato Fassino qualche anno fa ci pensai io da vice presidente della Camera penso che sia molto importante stabilizzare il rapporto tra Italia e America Latina sul versante parlamentare proprio perché i parlamenti sono diversi diciamo così dai governi e noi dobbiamo tenere aperta una finestra più grande possibile di relazione politica tra i rappresentanti dei parlamenti diciamo e anche perché abbiamo in comune il tema di come restituiamo ai cittadini la fiducia nei confronti delle istituzioni parlamentarie è un altro delle dei temi che andando in America Latina e confrontandoci con quelle classi dirigenti noi troviamo cioè me stupiva molto stupiva molto relativamente quando sono andata in Cile l'ultima volta era il tempo dell'essaiido social c'erano manifestazioni e c'erano i cartelli sul taglio dei dei fondi ai parlamentari sul taglio degli stipendi ai parlamentari sulla riduzione del numero dei parlamentari c'era detto oddio ma dove sono non avevo no ecco lo dico per ovviamente stiamo parlando di di realtà incommensurabili diversissime eccetera però il tema dell'antipolitica della difficoltà di far di rendere credibili e affidabili le istituzioni agli occhi del dei cittadini è un tema che ci accomuna come come accomuna ormai tutte le democrazie per la verità e quindi io penso che questo sia una delle questioni che i parlamenti possano eh discutere insieme sul quale costruite insieme un lavoro anche per il futuro grazie 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 mille io prima passo subito la la provocazione e provocazione insomma la riflessione di di Marina Sereni a a Pier Fernando Casini ehm senatore presidente già presidente dell'unione interparlamentare e e aggiungerei eh oltre al alla dimensione appunto parlamentare qual è lo spazio politico no? Per una collaborazione politica per la per l'America Latina. Prego. Grazie. Innanzitutto consentitemi visto che siamo tutti abbastanza amici qui di iniziare con una considerazione eh dato che eh Piero e eh Marina hanno ringraziato fortemente di santo per il contributo che ha dato alla conoscenza dell'America Latina alla sinistra italiana e consentitemi che io ringrazi Piero e Marina perché hanno sono riusciti a trasformare un giovane estremista in un processo di rieducazione lungo eh lungo che è durati anni in una eh in una realtà di un uomo anche appetibile per i moderati come il sottoscritto perché eh da quel giorno in cui eh eh Fassino lo trovò in un covo pieno di bandiere sandiniste dopo l'abbiamo civilizzato un pochino eh in tutti questi anni è riuscito ad essere un punto di riferimento diciamo anche detto questo ovviamente è una battuta ma non è poi così battuta e invece eh la la cosa che volevo dire è una eh che cosa ci accomuna qua questa mattina e e guardo le facce delle persone che ci sono è che noi qua siamo un po' una lobby detto tra noi di persone che credono a questo rapporto tra Italia e America Latina e che nelle posizioni che hanno avuto o che hanno in Parlamento nel governo nella nella casa della Farnesina nella società civile si sono battuti per tenere aperta questa finestra oggi il problema vero al di là degli sforzi io veramente ritengo Fassino eh un esempio lo lo voglio dire di di come uno dovrebbe fare le cose anzi lui è un eccesso perché è patologico no? Le fa sempre all'eccesso al duecento per cento basterebbe che gli altri la facessero al cento però lui ad esempio sul tema delle relazioni parlamentari ha fatto moltissimo Marina lo sapete io però penso che noi dobbiamo riconoscere che questo oggi è un buco nero della nostra politica e della nostra politica estera io non credo che la sensibilità che abbiamo noi sia condivisa oggi generalmente perché io vedo anzi che per come si sta sviluppando il processo di globalizzazione per le priorità che diventano il tema dell'Oriente della Cina dell'India eccetera l'America Latina sia in un buco nero anzi io vi vorrei dire qualcosa di più io non sono neanche più convinto che gli Stati Uniti abbiano tra le loro priorità il tema dell'America Latina perché vedo negli atteggiamenti statunitensi rispetto ad alcuni crisi aperti in America Latina una sorta di come se si dicesse questo è un problema enorme lasciatevelo lasciatevelo spiegare a voi cioè facciamo un esempio concreto il Venezuela il Venezuela oggi è in una condizione di paralisi permanente perché perché il governo non ha che è lì rimane lì non ha incentivi più di tanto ad aprire un processo di transizione l'opposizione è paralizzata dai suoi contrasti e non ha la forza sufficiente di ribaltare il governo e che cosa capita che la gente soffre che il popolo sta sempre peggio e che la politica continua sia gli uni che gli altri in un suo in un proprio processo di autoreferenzialità alle spalle dei cittadini davanti a questa questione cosa fanno gli Stati Uniti ma guardate che sostanzialmente non fanno nulla cioè si sono limitati con Trump ad affermazioni di principio tanto più gravi e sbagliate in quanto hanno ingenerato illusioni in un'opposizione che parlava io parlavo tante volte con quelli dell'opposizione mi dicevano adesso faranno brigano di guarda adesso non succederà niente e infatti non è successo niente eh allora io dico che questo è un problema immenso che abbiamo di fronte che va oltre il tema dell'Italia e dell'America Latina oltre il tema dell'Europa e dell'America Latina certo che se noi volessimo stabilire delle priorità questo è un tema per noi ineludibile facciamo un esempio quali sono le priorità della politica estera italiana io ricordo scusate non per citare sempre Fassino ma è qua per cui è ovvio che parlo con lui no io ricordo il lavoro che Fassino fece sul tema dei Balcani per forza perché i Balcani sono una priorità per l'Italia e quando Juncker insediando la commissione disse per questa legislatura nessuna possibile ampliamento ad alcun paese dei Balcani fece un errore enorme più che altro un errore dissuasivo degli sforzi che potevano fare perché può anche capitare che finisca così ma non lo si dice a freddo cinque anni prima mortificando tutto un processo virtuoso che è in corso se i Balcani sono stabili se sono se sono ricettacolo di foreign fighters di droghe cioè è chiaro che siamo destabilizzati noi i Balcani sono una priorità l'America Latina è un'altra cosa perché può apparire talmente distante da essere ma l'America Latina è un punto di riferimento potenziale per l'Europa enorme naturalmente dico per l'Europa perché è giusto quello che diceva Marina non si può neanche essere velleitari in queste cose noi siamo figli di questa tradizione siamo figli di questa tradizione noi che veniamo dal passato e scusate se non si viene dal passato non si ha radici su nulla siamo figli di questa tradizione perché io ho visto ho sentito con diciamo con simpatia e con nostalgia quello che loro hanno detto su sull'origine del vostro rapporto su quello che è stato il lavoro che ha fatto il dipartimento internazionale di partiti che vengono dal partito comunista e poi si sono evoluti io ricordo ricordo l'attenzione eh Bernardo Leighton tutti i i democratici cristiani come Gilberto Bonalubi il lavoro analogo e parallelo a quello che tu hai fatto che facevano coi grandi capi della DC ma io ricordo da Rumora Colombo da Fanfani che l'America Latina era per loro una priorità oggi noi abbiamo il compito che è in mane perché le condizioni globali sono diverse di riaprire questi riflettori naturalmente il tema parlamentare giusto è un un aspetto di questo noi abbiamo un rapporto preferenziale con tutti quelli dell'America Latina direi indipendentemente dalle collocazioni politiche perché poi in definitiva i parlamenti hanno sono lo specchio di paesi ci sono maggioranze opposizione certo e termino qualche evoluzione nazionali politiche sono un po' preoccupanti sono un po' preoccupanti perché adesso lui lei faceva riferimento al tema del Cile del voto di domenica insomma voglio dire anche da altre parti abbiamo un'istabilità semi permanente pensiamo a quello che sta capitando in Perù tra il congresso e il governo cioè qui veramente c'è c'è da anche diciamo in America Latina c'è da preoccuparsi seriamente dell'America Latina perché il rischio è che in questa condizione ecco che poi non è un caso la penetrazione cinese perché perché i cinesi non è che guardano i sistemi politici alla destra alla sinistra c'è questi si buttano occupano degli spazi e creano una dipendenza progressiva di questi paesi che poi non si riusciranno più a svincolare per cui abbiamo molto da fare disse quello diceva quello molto è stato fatto ma tanto rimane da fare moltissimo direi grazie grazie e ora darei la parola all'autore donato di santo grazie 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 gli interventi che si sono susseguiti e le manifestazioni così di di affetto di amicizia che che ricambio naturalmente che sono d'accordo con Pierferdinando Casini è stato reciproco questo questo apprendimento è stato un apprendimento reciproco e credo che oggi tra le tra le tante cose che sono che sono emerse da dalle parole di Piero Fassino di Marina Sireni di Pierferdinando Casini è proprio un omaggio non non così non stantio non un omaggio a quella che era che è stata per un periodo della nostra storia la repubblica costruita sui partiti politici sulla struttura dei partiti politici che permettevano tante cose adesso non entriamo nei particolari nelle storie personali già sono imbarazzato per questo quindi non non dirò nulla mi ero segnato delle cose ma evito tanto poi nel libro qualcosa c'è però permettevano che questa capacità di di conoscenza di approfondimento di relazioni fosse qualcosa che percorreva tutta la il panorama politico del nostro paese nella politica estera credo che ci siano ancora le condizioni non so se sarà facile però ci siano ancora le condizioni per poter far tesoro di tutto questo e magari anche con alcune delle cose che oggi sono state dette con contributo che spero per chi poi lo leggerà potrà avere la sua opinione di aver dato anche con questo con questo lavoro di andare appunto in questa in questa direzione oggi noi qui abbiamo avuto abbiamo politici tra i relatori politici di prima grandezza che magari per qualcuno dei presenti anche una scoperta per molti no ma per qualcuno può essere anche una scoperta sanno sanno conoscono davvero qualche esempio è saltato fuori molto ognuno di loro ognuno di loro potrebbe aggiungere dire conoscono davvero un continente che apparentemente è lontano ma inaudianamente non lo è che è appunto l'America Latina mettiamo a frutto tutto questo facciamo fruttare tutto questo facciamo in modo che anche nel giorno d'oggi con Twitter con tutte queste cose moderne però tutto questo possa come dire essere di nuovo all'ordine del giorno di nuovo un impegno politico di priorità nella politica estera e questa priorità nella politica estera secondo me è possibile assegnargliela ferme restando tutte le cose dette diciamo le priorità il Mediterraneo l'estero tutto questo è tutto vero ma aggiungendo questa questa priorità nella politica estera tutto ciò è possibile a mio parere anche perché da sempre nel dopoguerra l'America Latina invece che dividere ha unito le forze politiche italiane che non significa che tutti la pensassero o la pensa o la pensiamo allo stesso modo ci mancherebbe altro non è così su ogni realtà su ogni paese su ogni leader politico ci possono essere ci sono spesso opinioni diverse che mi sembra del tutto dirlo qui è quasi scontato è tutto ovvio e naturale non c'è nemmeno bisogno di sottolinearlo però al fondo c'è un sentimento che travalica questo che è di alcune visioni di fondo comuni ecco mettiamo a frutto questo facciamolo fruttificare perché esiste l'ILA l'Ila l'istituto italiano americano c'è qui la segretario generale che saluto perché esiste l'ILA l'ILA esiste perché c'è stata una politica di stato altrimenti un governo in un certo momento con un ministro degli esteri visionario e che conosceva quel pezzo di mondo costruiva un istituto per l'America Latina sarebbe durato il tempo di quel governo o di quella di quel motore politico e poi sarebbe andato nel dimenticatoio sarebbe scomparso no c'è ancora ha vissuto alti e bassi tanti momenti ma c'è ancora e c'è nella misura migliore nella forma smagliante migliore possibile perché perché c'è stata una politica di stato perché quando si è votato nel 66 la realità la costruzione dell'ILA l'ha proposto un governo dove c'erano appunto personalità quali Aldo Moro a Mintore Fanfani eccetera eccetera ma è stato votato è stato votato dall'opposizione dal PC quindi è diventata una politica di stato e infatti esiste ancora ecco le conferenze Italia America Latina questa questa esperienza molto molto importante molto significativa che che sta che sta caratterizzando il rapporto dell'Italia Italia Europa con l'America Latina hanno un po' mutati smutandi nella situazione eh data i decenni sono passati le stesse caratteristiche quindi il fatto che ehm eh un governo eh dell'ulivo dell'unione come lo si chiamava nel 2006 raccogliesse senza timore senza preoccupazioni una un'esperienza certo locale ma importante perché quando si parla di Lombardia insomma non è una cosa locale una cosa nazionale seppure eh all'interno di una realtà eh specifica e la facesse maturare e diventare ehm esperienza nazionale ecco eh vuol dire che che questa volontà esiste a prescindere dagli dagli schieramenti politici eh una persona come Gilberto Bonalumi che è stato un po' il il l'ideatore il motore vero dell'inizio eh che anch'io saluto con grande affetto e oggi non può essere qui come avrebbe avrebbe voluto mi ha telefonato e per questo mi permetto di dirlo ma ci sta ci sta seguendo ecco eh ha potuto costruire questo perché poi ha avuto queste sponde finito il governo Prodi dove abbiamo costruito eh come dire forse per la prima volta in un atto ufficiale ehm è stata è stata iscritta la politica verso l'America Latina come priorità una delle priorità della politica estera italiana grazie sia al presidente del consiglio del momento appunto Romano Prodi e grazie al ministro degli esteri di quel momento che raccolse questa questa volontà e da par suo la la fece propria come Massimo D'Alema bene tutto questo poteva poi cadere finire perché vabbè si ritornava a qualcosa in Lombardia invece no il governo successivo diretto presieduto da eh Silvio Berlusconi con ministro degli esteri Franco Frattini ebbero in particolare Franco Frattini che curò dire che seguì direttamente questa questa anche questa tematica da ministro degli esteri ebbe l'intelligenza l'intelligenza anche per l'interesse e che va benissimo di raccogliere tutto questo e di proseguire eh questa attività ecco tutto questo non è scontato cammina sulle gambe nostre vostre di coloro che in un dato momento in una data situazione in un dato eh eh ambito sono i protagonisti o i micro protagonisti di una storia più complessiva voglio ringraziare eh veramente mh di cuore e e e profondamente l'attività eh di Daniele Frigeri e eh e del CESPI del Centro Studi di Politica Internazionale uno dei pochi centri studi o i istituti di 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 approfondimento in politica estera in Italia che ancora e spero sempre più si occupa di eh anche tra le tante cose che che fa naturalmente importantissime anche di America Latina questo è eh come dire un investimento io spero eh importante non solo per l'oggi eh ma anche eh ma anche per per il futuro eh il CESPI è stato eh dall'inizio addirittura dalle conferenze eh eh sull'America Latina che si svolgevano eh in Lombardia uno dei centri studi che sempre è stato eh in prima fila nel collaborare a queste a queste attività e quindi credo che tutto questo patrimonio debba e possa essere speso eh speso eh utilmente ehm questo strumento di politica estera che sono le conferenze Italia-America Latina ma che non si limita la conferenza a questo a questa struttura delle conferenze sono tutto quello che ci stiamo dicendo qui le le l'articolazione di queste di queste attività eh tutte tutte queste eh tutta questa esperienza che emerge deve essere in qualche modo eh capitalizzata già eh la viceministro Marina Sereni faceva dei riferimenti ad alcune ad alcune eh proposte ad alcuni suggerimenti che io mi permetto mi sono permesso di fare di fare nel libro eh ne ha accennato lei non sto qui ad entrare nel merito anche per non togliere così la il gusto spero di leggerlo eh di leggerle sul libro però voglio richiamare una cosa ehm non era previsto io non pensavo di aggiungere anche quel capitolo ehm al volumetto al volume che sta su cui stavo lavorando fino a quando non mi è arrivato eh il testo del messaggio del presidente della repubblica di Sergio Mattarella al nostro presidente che eh in poche parole lo leggerete in apertura del libro dice alcune cose molto molto in linea con quella che è il suo modo di di essere di pensare di svolgere il suo ruolo e poi usa un 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 come dire un termine che così all'inizio mi aveva un po' sorpreso cioè usare delle idee apripista per il lavoro verso l'America Latina allora mi sono detto beh in effetti alcune di questi di queste idee che frullano per la testa a me e ad altri che naturalmente da cui in parte ho attinto attingiamo reciprocamente quando parliamo di queste cose probabilmente è il caso di segnalarle alcune di queste idee apripista come il nostro presidente ehm le 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 qualifica nel suo messaggio e quindi dopo la lettura del messaggio di Sergio Mattarella ho eh mi sono deciso ad aggiungere in fretta e furia erano gli ultimi giorni prima della consegna del del testo anche quelle quelle proposte ehm ultimissime battute eh sia sulle cose che eh che hanno detto i tre i tre relatori presentatori per Ferdinando Marina e Piero ehm in particolare per quanto riguarda l'Europa ehm se ehm una una priorità ci deve essere nel rapporto di questo continente con questo continente beh non può non può più essere solo da parte dell'Italia noi siamo in Italia diciamo che l'Italia deve fare le conferenze sono Italia America Latina Lila tutto quello che vogliamo però ovviamente mettiamo sempre una virgola e aggiungiamo l'Europa non non esisterebbe anche perché dal dal 1911 eh nel bene e nel male sono successe poi tante tante cose eh nel mondo bene eh a un certo punto quando eh eh per fortuna eh e la Spagna è rientrata nel nel concerto delle 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 democrazie eh naturalmente tutta questa attività che era stata impostata in particolare da Fanfani e da altre e da altre personalità ha avuto uno scossone perché entrava in scena oggettivamente diciamo una una un attore eh del tutto del tutto particolare per tutti i motivi che già sono stati detti. Lì c'è stato un cortocircuito. C'è un libro di Nocera e Wolf eh molto molto interessante da questo punto di vista che analizza bene anche questo in particolare la il il capitolo proprio del professor Paolo Wulzer Wulzer eh che analizza bene questo punto da parte europea fu in qualche modo dato in appalto così no non solo la volontà spagnola questo mi sembra eh ovvia e anche legittima per eh dal dal loro punto di vista non c'è nulla da da recriminare ma meno ovvio e forse meno legittimo da parte europea come dire fu e lì c'è un'analisi dei documenti molto interessante che io in parte richiamo nelle nelle note a cui mi riferisco al lavoro che ho citato bene venne in qualche modo dato in appalto. Vogliamo parlare dei risultati? Faremo una conferenza ad hoc non adesso non non esprimo nessuna per parlare dei risultati. Se i risultati sono il meglio possibile tutto quello che di meglio poteva succedere è successo bene avanti così non c'è nessun problema. Se i risultati alla prova dei fatti di questi ormai venticinque trent'anni non sono esattamente eh il meglio possibile ma vogliamo riconsiderare questo punto in accordo ovviamente con la Spagna che sarà sempre il il capofila è ovvio è nelle cose diciamo così e nessuno si sogna di 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 dire il contrario anzi è è una garanzia però cominciare concretamente a pensare a una relazione dell'Europa con l'America Latina che veda come protagonisti eh tutti i paesi europei naturalmente ma in particolare la Spagna l'Italia il Portogallo la Francia la Germania quindi questa volontà come volontà eh politica eh va a mio parere assolutamente espressa ehm eh sono state fatte eh sia da Piero che da che da Marina eh Marina Sereni dei richiami alle proposte concrete che appunto ci sono nel libro nostro non starò qui e ovviamente ehm a a ripeterle se non per dire un'ultima cosa e cioè che per quanto riguarda eh le attività eh le attività che potrebbero essere come dire di supporto alle conferenze Italia America Latina adesso dopo la dopo il passaggio di boa del della decima della decima conferenza eh e che si aggiungerebbero sia al al foro delle piccole e medie imprese italo latino americano che gestisce eh Lila eh e sia a al al foro parlamentare eh eh già già hanno fatto riferimento prima a questa eh altra importante attività di supporto alle conferenze in particolare quelle strutture, quegli strumenti che potrebbero rivolgersi alla società civile, ai poteri locali, a tutti quei livelli di interlocuzione con l'America Latina che dove davvero l'Italia e e la sua complessità e la sua specificità avrebbe tantissimo da dare e da e da offrire e da ricevere. Ecco io penso che tra tra i tanti organismi che che posso che che potranno e che potrebbero dare un contributo in primis dovrebbe esserci proprio il Cespi, proprio questa struttura perché non ha mai smesso di eh impegnarsi anche quando non era di moda, anche quando non c'erano eh le risorse su questa su questo versante e quindi io spero che ehm che possa avere un ruolo di da protagonista anche in questo momento eh ringrazio di nuovo il direttore Frigeri, ringrazio tutte le persone e i collaboratori del Cespi che hanno permesso di dare di dare luogo a questa a questo momento per me eh eh importantissimo e e di cui sono sono orgoglioso e ringrazio tutti i partecipanti grazie 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 Donato eh da parte mia eh il Cespi conferma il suo interesse e la sua disponibilità la moda non è ancora arrivata i soldi non ci sono eh però noi eh ci siamo io volevo ehm volevo eh intanto appunto ringraziarvi e se c'erano abbiamo ancora qualche minuto se c'era qualche eh riflessione, osservazione, domande ehm arrivederci, grazie 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 non so se rompo il ghiaccio dalla parte dell'auditorio ma mi fa piacere fare questo piccolo intervento intanto saluto tutti ovviamente saluto molto donato e devo soltanto eh riportare la mia esperienza e tutto sommato anche anche l'auspicio. Io per anni ho seguito attività di carattere industriale in America Latina eh devo dire anche con grande anche con grande successo ovviamente in stretta collaborazione con tutti in stretta collaborazione con la Farnesina e e e ovviamente però con devo dire con il supporto di Donato in vari in vari momenti e in varie fasi quindi intanto è un riconoscimento anche da parte di chi ha vissuto eh in posizioni diverse evidentemente ma ha vissuto dall'altra parte da una parte ecco dalla parte dell'industria, dalla parte dello sviluppo, dalla parte della cooperazione, questa riflessione, questo questa possibilità di sviluppare attività, azioni, investimenti importanti. Dall'altro richiamo sempre l'esigenza eh del fatto che probabilmente potremmo cominciare a spingere anche sul sulle grandi imprese. Cioè credo che bisognerebbe trovare la modalità di attivare una forma così come è stato fatto con successo dal mio punto di vista all'interno dell'ILA sulle piccole e medie imprese anche cercare di attivare un forum o quale che sia la forma questa si può cercare per cercare la cooperazione tra le grandi imprese. Questo secondo me può spingere anche in quella che è una non non possiamo nemmeno definire la competizione ma insomma un approccio eh da parte cinese e probabilmente può essere anche una spinta molto forte data la presenza molto consistente è stata citata da Lenin ma tante sono le imprese italiane presenti anche storicamente presenti nel in America Latina in tanti paesi dell'America Latina e questo anche per far quindi non soltanto eh non soltanto quel spagnolo ma anche per far fronte al fatto che effettivamente manca l'Europa e manca l'Europa ma anche il sistema finanziario europeo in America Latina non è sufficientemente forte e questo probabilmente bisognerebbe cercare di rimetterlo un po' al centro della discussione solo questo un ringraziamento a Donato ringraziamento naturalmente a tutti e grazie dell'invito naturalmente eh c'era Donato eh c'era Dario Conato prima poi sì grazie buongiorno eh grazie a tutti all'ottimo lavoro eh svolto da Donato e alle eccellenti presentazioni che purtroppo vengono cioè sono ottime ma vengono dal ridotto numero dell'artiglieria pesante degli amici italiani della politica italiana degli amici dell'America Latina io sono un po' più pessimista ecco sono abbastanza vicino a quello che diceva l'onorevole Casini credo che sebbene probabilmente è vero che dopo la Spagna viene l'Italia la distanza è forte tuttavia nel Parlamento europeo che seguo anche per lavoro l'iniziativa trainante sull'America Latina è fondamentalmente dei dei deputati eh spagnoli è difficile trovare politici dei partiti democratici italiani eh oltre ovviamente a quelli presenti a quelli di punta che abbiano un po' di competenza o oserei anche dire di interesse verso l'America Latina quindi io invito chi è qui a continuare un lavoro che è molto ancora da fare due cose sole l'America Latina non solo è vicina per le tante ragioni che sono state qui ricordate ma anche perché è un elemento fondamentale della dell'equilibrio globale una volta ero in America tornando dall'America Latina dove ero stato per un progetto sulla piccole sulle economie locali le piccole imprese eccetera leggevo zero 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 il libro di Saviano sulla eh traffic sul narcotraffico e mi rendevo conto che dove ero stato sotto passavano fiumi carsici di miliardi di miliardi di narcodollari che rendevano totalmente inconsistente il lavoro che cercavamo di fare eh sulla superficie quindi primo traffico d'armi droga e traffici illegali di vario genere li hanno profondissime radici e la democrazia di quei paesi è fondamentale per i nostri per il nostro equilibrio e vorrei anche ricordare il non il co insomma la sede si ricordava di Donato e quella da cui veniamo noi negli anni settanta la democrazia progressiva erano quei manifesti lì e dall'altra parte c'era Pinochet. Oggi ci ricorda Sergio Ramirez un grande intellettuale di sinistra che la la dicotomia non è destra sinistra in America Latina è democrazia autoritarismo che ha grandissimi agganci col primo tema che menzionavo ecco io una bella scossa ai nostri politici alle nostre politiche continuerei a darla e dal nostro piccolo del Cespi che in una roba che ancora donato è fuori moda e ancora non c'ha finanziamenti cercheremo eh di continuare a fare e ultimissimo quali sono le migliori fonti di informazione per chi ha fretta e vuole leggere in spagnolo sull'America Latina vabbè ovviamente il paese eccetera i giornali latinoamericani ma vai su Deutsche Welle e c'hanno la sezione in spagnolo sull'America Latina vai sulla BBC hanno un eccellente molte testate europee lavorano sull'America Latina in lingua eccetera tra nulla trovate nella stampa italiana in italiano in inglese in spagnolo in portoghese nulla quindi c'è una disattenzione sociale molto vasta quindi invito la nostra artiglieria pesante a continuare con le munizioni grazie grazie la dottoressa Cavallari voleva Sì io eh a parte che approfitto dell'occasione per ringraziare eh donato e e dire che più fortunata di così non potevo essere perché essere il successore eh di eh un segretario generale come donato di santo a Lila eh è veramente stata una una grandissima fortuna perché mi ha permesso di costruire su fondamenta solide quindi tutto quello che Lila sta facendo adesso è possibile perché la casa era stata messa a posto e come era stata messa a posto quindi grazie veramente ancora una volta donato eh voler brevemente intervenire su due punti il primo è quello dell'Europa eh Lila grazie anche al lavoro che Donato e il direttore Rossi che oggi è con noi eh avevano svolto prima ha avuto il riconoscimento di ente delegato per la cooperazione europea questo ci sta permettendo di crescere in maniera incredibile tanto che attualmente gestiamo programmi di cooperazione europea per quasi dieci milioni di euro che non è poco e questo ci ha permesso di consolidare un rapporto con la Spagna estremamente produttivo io qui vorrei dire che la Spagna sta diventando non il nostro antagonista ma un collaboratore noi stiamo gestendo programmi insieme alla FIAP all'agenzia di cooperazione spagnola con un ruolo di grandissimo rilievo sono loro a chiederci delle cose sono loro a proporci per esempio in Cile si parlava del Cile eccetera noi abbiamo partecipato alla eh stiamo partecipando tuttora al processo di definizione eh della della nuova costituzione cilena i gli spagnoli hanno chiesto a noi di portare degli esperti costituzionalisti italiani la stessa cosa succede nel campo della lotta alla criminalità organizzata alla corruzione sono loro a riconoscerci una premazia e a chiederci portate voi degli esperti italiani perché voi avete i contatti e di fatto è vero ce li abbiamo e li portiamo quindi questo ci viene riconosciuto ora che succede possiamo fare di più sì certamente noi potremmo avere e questo è un altro dato importante moltissimi programmi in più e questo lo so per certo per certo perché mi si chiede spesso e volentieri di partecipare a programmi europei ultimamente mi hanno chiesto persino di partecipare in un programma per i Balcani io ho detto di no non ce la posso fare ma per dirti la considerazione dell'expertise dell'esperienza che abbiamo accumulato sta travalicando pure l'America Latina ci hanno detto quello che voi fate in America Latina per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata ci è di esempio pure in Serbia ho detto vabbè lasciamo stare però gli spagnoli da soli non ce la facevano che succede che cosa manca c'è ora in questo momento un processo che Marina conosce bene che è quello delle TEI cioè della Team Europe Initiative adesso si va per grandi temi quindi si dice per giustizia e sicurezza per green economy per digitalizzazione occorre stabilire delle priorità queste priorità si stabiliscono insieme agli stati membri e ci sono dei gruppi di lavoro in cui gli stati membri devono definire le priorità di azione e anche eh dove svolgerle questa è un'azione che soltanto gli stati membri possono fare noi partecipiamo come si dice di straforo nel senso che stiamo partecipando a questo esercizio perché ci stanno invitando e ci riconoscono una capacità spesso e volentieri mi dicono però l'Italia non si è espressa ecco lì l'Italia può fare molto di più può essere più presente in questo esercizio delle TEI dove si alza eh il danese e dice io vorrei fare una cosa di questo tipo in America Latina e cioè ma perché non lasciare soli gli spagnoli me l'hanno detto mille volte Bruxelles noi abbiamo bisogno dell'Italia perché non vogliamo che l'America Latina sia soltanto espressione dell'interesse degli spagnoli vogliamo una presenza italiana forte di governo l'Italia a Lila come strumento operativo noi siamo non a disposizione di più siamo lo strumento operativo di cui l'Italia si può servire anche in Europa per cui io ripeto quello che vabbè voi già sapete benissimo però insomma eh è importante questo questo queste informazioni sull'Europa penso sulla parte imprese è vero noi abbiamo il foro piccole e medie imprese che sta andando benissimo io mi chiedo le grandi imprese se sia giusto eh opportuno o utile fare una specie di business council ci si è provato molte volte in passato ho visto business council con grandi paesi in Brasile in Messico eccetera non lo so io penso che le grandi imprese hanno i loro canali quello che penso sia invece utile e che stiamo cercando di fare è eh includere il rapporto con delle imprese per delle cose da fare per esempio un progetto come quello di Città Verdi che è un progetto per la trasformazione in senso sostenibile delle realtà urbane latinoamericane io sto cercando di portare dentro le grandi imprese quindi ho fatto degli accordi con Enel ne sto firmando uno con Leonardo per fare delle cose precise in tutta la regione quindi non necessariamente solo in Brasile o solo in Messico o in un paese specifico però fare degli accordi con delle imprese su progetti e dire voi che cosa state facendo tu Enel sta investendo dieci miliardi in America Latina che cosa hai comunque pensato di fare e mettiamolo a sistema ci mettiamo dentro delle altre grandi imprese e questo sta pare funzionando quindi nella seconda parte del mio mandato io avevo pensato proprio di di lavorare però su progetti perché sennò va a finire che uno si riunisce fa il tavolo di lavoro il seminario poi ciao e così insomma però io ho un approccio un po' particolare piuttosto sull'operativo grazie grazie aggiungo una domanda che è stata scritta nel web come ripensare l'interazione con sistemi politici di un continente nel quale come si accennava il sistema di partiti e molti casi l'architettura democratica si stanno indebolendo per lasciare spazio populismo autoritari ehm sempre più stili e la critica esterna in molti paesi punto interrogativo e io farei una una brevissima carrellata prego confermo tutto quello che è stato detto qui è fondato ora eh mi concentro solo su un tema eh l'attenzione all'America Latina è sufficiente? sufficiente non è mai questo è certamente vero eh c'è una presenza italiana in America Latina fortissima sia dal punto di vista economico dal punto di vista politico dal punto di vista culturale e guardate anche in questo caso eh emerge quello che è un limite strutturale del nostro paese il limite strutturale del nostro paese è fare sistema io l'ho misurato quando ero ministro del commercio estero tentavo di spiegare alle imprese che per andare in un paese soprattutto lontano era meglio andarci in termini sistemici e loro mi spiegavano che potevano fare da sé e questo per una ragione perché siccome il nostro paese l'apparato industriale nel nostro paese è morfologicamente fatto di piccole e medie imprese nate per iniziativa di un imprenditore cresciute grazie alla sua determinazione sul lavoro trasmesso al figlio l'idea di mettersi con qualcuno in una logica sistemica è un'idea che non è facile acquisire per cui no questo è secondo me un problema perché riguarda l'America Latina riguarda anche altre aree c'è proprio una difficoltà a diciamo a proiettare l'Italia come come sistema paese questo è un punto che è molto presente alla anche alla Farnesina che giustamente ha voluto l'accorpamento del ministero del commercio estero al ministero degli esteri in una logica sistemica perché ha riorganizzato le direzioni generali in una logica sistemica quindi la cosa non è sconosciuta né inavvertita però la difficoltà è obiettiva questo è un primo un primo grande un primo grande tempo secondo è vero che la politica italiana oggi non ha un'attenzione all'America Latina come invece ha avuto nei tempi della prima repubblica io ho parlato e Marina anche dei rapporti che aveva la sinistra ma la democrazia cristiana aveva un rapporto con l'America Latina fortissimo Casini è stato presidente dell'unione interparlamento dell'unione democristiana internazionale grazie essenzialmente ai voti al contributo dei partiti democristiani dell'America Latina che era l'altra grande famiglia politica insieme alla sinistra presente in quel continente quindi c'è stato un tempo in cui la politica italiana aveva delle relazioni intensissime con l'America Latina poi il sistema politico italiano ha conosciuto tutte le evoluzioni anche i turbamenti che 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 conosciamo tutti e questo ha indebolito fortemente diciamo no la capacità dei partiti di relazioni intanto ha rarefatto il panorama dei partiti non solo in Italia ma in generale quindi la costruzione di relazioni è molto più difficile e poi c'è obiettivamente è stato un ripiegamento più sulla dimensione europea o mediterranea o delle aree diciamo di primo e prima nostro interesse rispetto invece a costruire relazioni dell'America Latina io penso che questo vada superato e quindi bisogna dare una battaglia una battaglia politica e culturale un libro come quello di di Donato che io mi auguro possa essere diffuso e mi auguro anche che oltre a questa presentazione se ne possano organizzare in altre città italiane è uno strumento che dobbiamo utilizzare appunto per questo per costruire diciamo una per far percepire e assumere che l'America Latina ha una centralità strategica che davvero per noi e per l'Europa è questione questione essenziale avere un rapporto anche perché questo rapporto è richiesto e desiderato per l'America Latina non è che siamo di fronte a una difficoltà di relazione c'è una richiesta c'è una richiesta sia perché dire storicamente l'America Latina ha sempre vissuto con fatica diciamo la dominazione nordamericana sia perché la presenza cinese è una presenza invasiva c'è una domanda di Europa quindi noi dobbiamo essere capaci di promuovere questa e io infine colgo molto utile questa indicazione che è dato Donato e che Marina ha ripreso e cioè articolare la conferenza anche in una fitta relazione fitta rete di relazioni bilaterali che ci consentano di dare spessore alla conferenza e dagli basi non credo di non rivelare nessun segreto perché ci stiamo lavorando da qualche settimana con il CESPI stiamo creando un forum Italia-Messico che ha l'obiettivo esattamente di avere un focus costante continuo su tutte le dimensioni del rapporto tra Italia e Messico e così si possono fare tante altre cose grazie sì sarò abbastanza telegrafica anch'io per dire due cose ma io diciamo ho visto anche la domanda penso che noi e ho sentito il dibattito penso che noi dobbiamo metterci molta pazienza in questa vicenda non è che possiamo ribaltare l'atteggiamento dell'opinione pubblica o della stampa italiana sulla politica estera perché non è che non ci sono notizie su America Latina non ci sono notizie cioè non è che non ci sono commenti in spagnolo non ci sono commenti in altra lingua c'è anche poco di italiano ma diciamo questo eh quindi io penso che noi dobbiamo diciamo sapere che questo è diciamo il gradiente di attenzione della larga opinione pubblica e della larga stampa alla politica estera nonostante questo lo diceva adesso Piero c'è una grande domanda nonostante questo quando poi noi siamo lì noi siamo lì e ci vediamo cioè siamo visibili siamo pesanti e in qualche contesto siamo anche lo dico così più apprezzati dei nostri fratelli sorelle spagnoli perché abbiamo meno scheletri negli armati diciamo no? Ecco abbiamo meno 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 zavorra dietro non abbiamo un passato coloniale che ci crea problemi siamo più liberi diciamo e siamo anche quindi noi dobbiamo sapere che c'è questo spazio e se guardo all'azione del governo dico dobbiamo parlare con tutti anche con i governi più distanti quando capita perché noi dobbiamo parlare con tutti non cederei alla semplificazione che siamo in presenza c'è l'ho detto prima c'è una polarizzazione non c'è dubbio c'è una grande polarizzazione però non cederei a una chiave di lettura per cui ovunque ci sono ritorni alla dettatura all'orizzonte ci sono diciamo è una è una vorrei dovremmo fare un approfondimento paese per paese però diciamo ci sono dei processi involutivi c'è un processo involutivo in Nicaragua evidente diciamo così no è uno uno che caccia tutti i suoi competitor dalle elezioni diciamo è evidente ci sono processi involutivi in quella che possiamo definire la sinistra in quella che possiamo definire la destra ci sono processi di radicalizzazione sicuramente sì però attenzione a considerare tutti i processi involutivi appunto che vediamo semplicemente come un ritorno di vecchie pulsioni autoritarie perché io penso che questo sia un po' semplificato semplificatorio e ci privi della possibilità invece di interlocuzione quindi io penso parlare con tutti moltiplicare le relazioni politiche naturalmente c'è un ruolo che hanno i governi e ci sarebbe un ruolo per altri soggetti i partiti diciamo così sono stati come è stato chiaro in questa discussione sono stati degli attori del dialogo con l'America Latina oggi lo sono molto di meno perché è più infragilita la struttura dei partiti a quella struttura più fragile dei partiti un po' diciamo subentra un ruolo più forte dei parlamenti dei parlamentari diciamo della amicizia e della costruzione di relazioni parlamentari però noi dobbiamo moltiplicare le occasioni società civile mondo economico accademia tutto quello che esiste ed è ripeto tantissimo eh è più pesante di quanto noi pensiamo diciamo è più radicato è più strutturato ed è più solido di quello che noi pensiamo eh covid permettendo penso che dobbiamo riprendere anche le visite l'America Latina purtroppo noi dobbiamo sapere che eh diciamo le visite si sono bloccate da due anni a questa parte credo che ci sia stato pochissimo in eh diciamo possibile da fare io adesso andrò in Centro America diciamo Cuba e Costa Rica a gennaio inshallah speriamo che funzioni eh non abbiamo ancora potuto fare una grande visita del ministro ecco questo se devo dire tra i nostri tra le nostre ambizioni e credo anche diciamo le ambizioni del ministro questo credo debba essere un obiettivo dei prossimi mesi se sarà possibile covid permettendo uno dei fattori di rilancio e anche un segnale molto esplicito diciamo del dell'interesse dell'importanza che la che l'Italia attribuisce all'America Latina sarebbe un bel viaggio del ministro Di Maio che possa fare diciamo eh come dire possa essere lì con anche che diciamo imprese eccetera eccetera fermo qua grazie donato allora grazie mille a tutti e un augurio il Natale e le feste так All'inizio un giro